Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Sì o sì? Ok, allora, questa è un profilo un po' diverso di quello che avete fatto il mattino Così avete bisogno di un po' più di spazio E ci farò siete musoni e troppo seri Le mani! поч Applause ось viva la musica norma tastiamare le diverse note e e a дов o o ris a a Grazie! Prima del braccio Prendi il braccio Voi! Vi! Voi! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.